Grazie, allora sentiamo un attimo la motivazione per favore. Si può ben dire che il mondo dello spettacolo non riesce a fare meno di lei, attrice, ormai di adozione napoletana, con l'aspetto sempre da ragazzina. Fiore all'occhiello della soppopera un po' tol su, ha ricevuto il battesimo da Pippo Baudo in Fantastico 6, ha proseguito le sue apparizioni televisive in Indietro Tutta di Renzo Arbole come Miss Street, ma ha ricevuto il lancio definitivo contenendo un grande successo in Lisperatamente Giulia. Premio Adora la semplicità, il mare e l'arredamento e quando può si occupa del sociale. Premio Fabola dell'Anna per la fiction televisiva, Amina Soltano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie, veramente di cuore. Una piccola domanda. A questo proposito, visto che... La mia domanda è legata al sociale. Visto che la nostra rassegna ha toccato una serie di film, ma improntati in qualche modo non sui sociali, ma sulle difficoltate di dire, eccetera, come ti sei avvicinata al sociale? Beh, insomma, non è che mi sono avvicinata così tanto per, diciamo che da bambina, ecco, ho sempre avuto quest'anno, questo attaccamento sociale in generale, ma fin da piccolo, solo che, ovviamente poi crescendo, no, tu capisci meglio, no, l'importanza. E quindi io, insomma, sono sempre presente, insomma, nelle occasioni importanti, quelle forti, significative, insomma, se posso dare il mio contributo, lo do veramente con il cuore, perché, insomma, io sono stata fortunata. E quindi mi sembra doveroso, ecco, regalare un po' della mia fortuna, che non ne ha, insomma, ne ha meno, per me, insomma, quindi come posso sono sempre presente. Sì. Grazie. Sì, grazie, grazie. Scusa, non posso, non posso mettere il link, ora. E iniziamo il primo. E iniziamo il primo. Comunque. Comunque. Comunque.